Lunedì 17 agosto, San Giacinto, è il 229esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 136 al termine. Il sole sorge alle 6 e 14 e tramonta alle 20 e 18, la luna si leva alle 8 e 59 e tramonta alle 21 e 24. Un bando a stampa proibisce la mala consuetudine usata per gli famigli, massare eccetera, di buttare ruinazze, sconcezze e altri immundizie negli rii e sopra le strade pubbliche, non nolendo quelle portare a luoghi soliti, cosa che è dannosa et vergognosa. Ai trasgressori erano combinate non solo pene pecuniarie ma persino di esser frustadi attorno la contra dove fosse avvenuta la contravvenzione. Le previsioni per domani, tempo variabile con annuvolamenti alternati a spazi di sereno, specie sulle zone centro-settentrionali sarà possibile qualche precipitazione a prevalente carattere di rovescio o temporale, temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento soprattutto in montagna.